bella raga e bentornati in questo nuovissimo video in cui andremo ad aprire il mega baule cangiante che è nuovo di Clash Royale presente solo dopo l'aggiornamento così come il no credo solo quello comunque ce l'è già nelle missioni e lo apriamo ed è sicuro di trovare circa 17 80 ore 84 frecce 160 sgherri normali da 3 279 barili d'ossa 137 razzi che mi servono molto tutto ok qua servono tutti credo che le rare siano uscite tutte quando ti posso far vedere schiaccio io schiaccio io voglio no se non era mai vi piacevo scrivere cosa volevate comunque io voglio non so orcine magica mi va bene gran cavaliere è un po inutile no meglio il peccato me stregone di ghiaccio mi va bene ma anche strega notturna bosca di oro però strega notturna va bene strega notturna stregone di ghiaccio o acere magico che paura e non credevo di riuscire ci sono i campi no 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 sto facendo un video ci sono pure i campi 7 su 7 eh già ne è già nemmeno già ci gran cavaliere 8 io ho il peccato per me è meglio il pecca no che anche cavaliere no cambiamo allora barina o dominatore ho trovato che va bene minatore per me è usiamo a me le frecce ne uso per scambiare gli sghermi servono perché sono forza e 84 fegge per le donazioni 160 sghermi per donazioni fare ridossa uno spreco lo scam c'è il cambio perché devo vedere che leggenda trovo non so io cambio od il minatore lo cambio il minatore sono cambiato e forse non so quali scegliere no la razza mi serve perché c'è livello basso la razza lo stregone di ghiaccio non lo potrei anche perché l'arcere magico quindi usiamo uno scambio per i barili rossa mi vanno bene le gang e raga che gli sgherri no no gli sghermi servono perché li chiedono tanto nel clan e no è quella leggendare che non so posso cambiare ancora quattro volte non scherzo più niente perché ho paura guarda che c'è la strega notturna mi va bene io faccio così dai lo stregone di ghiaccio ci serve molto in difesa arce magico meglio lo stregone o anche moschettiero cacciatore poi strega notturna dai è quasi la strega poi cosa c'è non è che chissà quanto forte scambia e mira è una legenda e ha i pipistrelli basta e poi c'è allora c'è la cimiteria l'ho presa però ho sbagliato per a me non serve e le altre no quindi era l'unica infatti alla fine c'era era contro stregone di ghiaccio minatore cimitero lo stregone di ghiaccio non l'ho preso non so perché mi serviva il minatore ha per me non va bene cimitero ce l'ho e credo proprio stregone di ghiaccio però visto che ho altri quattro cambi vorrei usarli faccio sugli sgherri perché potrebbero mi servono le scariche no sgarri o frecce faccio frecce dai o resi sgarri ok va bene rare e golem di ghiaccio dai no questo per niente va bene odò quindi stregone di ghiaccio e dai sono felice prima di tutto lo scrivo al clan 對啊 non ci vedete mhm chi vedete ma dovete vabbè quindi miglioriamo gli scaricuccioli e basta per i razzi li ho tolti e perché non mi dà il sa perché devo toccare lo nel ghiaccio mi sono felicità e quattro leggendari all'altro giorno e l'altra oggi chi niente di che ragazzi al posto che cosa mettiamo lo tocchiamo possiamo fare il tech cimitero questo video durerà un po ma lo facciamo quindi l'uno lo lascio e il 2 ci devo pensare 5 il 2 e lo lascerei sto pensando che cosa mi chiede mettere lo stregone di ghiaccio credo proprio che toglierò questo si tolgo tolgo questo il cimitero con lo stregone di ghiaccio perché il mio deck non credo che ci sia spazio perché pecca ok tank questo che funziona molto allora l'ora di scheletri è la riete non è che lo sto usando tanto però se il cannone a rotelli non va quindi potrei metterlo al posto di stregone fa troppi pochi danni non posso per risultati su un'ora di sghera e al livello 10 che è molto comune in arena 10 ci vogliono tre colpi cioè anche di più 45 ci ha stregone uno questo pietro tank che costa poco questi così li tengo e credo che ci sia bisogno della riete lo lascia un canone a rotella diventa troppo attacco manca di difesa quindi sicuro tengo tank questo per attaccare secondo di ghiaccio non ci sta anche se ci sarebbe però no vai qui quindi nel deck questo non possiamo quindi nel deck stregone di ghiaccio cimitero c'è veleno prima di tutto poi tornato a perché non fa una cosa invece di fare tutta tutto sto disordine andiamo alla leggenda leggendaria e cerchiamo il deck mi serviva anche la tronco però si chiama morti di freddo non devo per forza cercare su google questo lo mettiamo ad un toccato mi ricordo una lapide intenzione